Il martedì stai trasmettendo dal vivo benvenuti a tutti quanti sono le ore 18 e 30 puntuali come gli svizzeri e puntuali come gli svizzeri anche voi 49 spettatori che vi siete già collegati mi sono collegato 5 minuti fa per curiosare un attimo cosa stavate facendo e ho visto un po' i vostri messaggi intanto ciao a tutti quanti ragazzi benvenuti in diretta un saluto un po' così generico adolfo monchi motuchinio gabriele maurizio sergio matteo michele mirko sigma svapo presente anche lui aldo tortorelli ciao aldo carissimo andrea de santis adolfo di nuovo sigma adolfo maurizio andrea ventimiglia che non può mai mancare franco sergio franco 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 sergio un sacco di gente ragazzi non leggo subito le vostre domande perché intanto vi voglio ringraziare della presenza qui di questa sera e voglio iniziare subito spiegandovi la collaborazione che è nata con questa azienda che mi ha contattato l'altra settimana e mi ha detto più di una settimana fa ormai e mi ha chiesto appunto se ero interessato a trattare le transizioni che trattava che appunto aveva creato intanto apro un attimo il sito abbiate pazienza perché sono arrivato ma non mi ero preparato il sito aperto quindi eccoci qua e innanzitutto vi mostro il sito di questo amico che è partito in realtà non mi ha contattato due settimane fa due settimane fa sono riuscito a risentirlo io perché come ben sapete ho fatto i corsi di da vinci resolve ho fatto tutta la parte dedicata al appunto alla gestione del corso alla preparazione alle riprese del corso alla vendita del corso poi ho fatto anche il corso online per fusion quindi ero veramente imballato di roba ma poi mi ha chiamato questa azienda e mi ha detto ma vorresti mica provare e testare le mie transizioni ammetto che non è l'unica persona che mi ha chiesto di fare i test conoscete già altre aziende c'è anche messaia di cui ho fatto anche una bella recensione e poi mi è capitato mi è capitato lui tra le mani mi è capitato lui tra le mani perché mi ha colpito particolarmente una cosa guardate il sito il tuo prossimo passo nel mondo di da vinci resolve è italiano cioè sto ragazzo è siciliano è italiano quindi e anche da un punto di vista di assistenza da un punto di vista di di persona cioè qua non è dall'altra parte dell'oceano e sta cosa mi è piaciuta da matti perché quando si parla di roba fatta in italia sono impazzito a me è piaciuto un casino mi è piaciuto un casino per due motivi il primo è stato appunto il fatto che è italiano il secondo è stato che scendendo giù nella pagina sono andato a vedere il pack completo che tiene 100 transizioni suddivise in 5 categorie altra cosa che a me è piaciuta di brutto perché 5 categorie e 100 transizioni sono tante ed effettivamente sta roba qua mi ha colpito particolarmente quindi se siete curiosi a prescindere dal fatto che sapete benissimo che oggi c'è in regalo il pacchetto completo e ci sono un voto di sconti per tutti quelli che seguiranno la diretta siete in 76 adesso quindi inizieremo un po magari anche a parlare di queste transizioni qui sul link tra l'altro le vedete facciamo così faccio partire un attimo questo video così vi date un'idea della tipologia di la serie a ok è stato breve ma intenso quindi chiudiamo la pagina grande ritorniamo nella schermata in cui vedete il mio faccione e questo ragazzo appunto che ha creato queste questo sito che si chiama rocket davinci.com vi permetterà questa sera grazie a lui quindi dovrete ringraziare lui per questo bellissimo regalo di avere un pacchetto gratuito al 100% e poi anche degli altri sconti belli belli tosti che vi andrò a raccontare durante l'arco della serata leggo al volo qualche domanda giusto per far aumentare ancora un po le persone siamo partite da sei minuti quindi vediamo un po chi c'è online questa sera perché di solito si ti inventi 30 poi quando si regala le cose pim pum pam pim pum arrivati un sacco di persone quindi ringrazio tantissimo rocket davinci che mi ha dato la possibilità di testare queste transizioni e adesso andiamo anche a vederle assieme quindi vi faccio vedere come si montano come si caricano su da vinci resolve e come si utilizzano perché sono di una semplicità disarmante direi ancora più facili di quelle di messaia e un'altra cosa che ho notato e che mi è piaciuta particolarmente è che sono molto leggere cioè non appesantiscono il video in maniera eccessiva e se lo appesantiscono comunque basta fare un render user della singola parte della clip e si risolve tutto quanto leggiamo un po chi c'è online parto un po così a caso ragazzi stasera perché quando siete in tanti siete in 91 già che avete toccato la soglia avete superato la soglia dei 90 quindi leggevo ovvio presente eravamo arrivati a sigma svapo andrea salve a tutti in attesa che arrivi tommy qualcuno conosce un sito dove trovare delle audio transitions carine io sto utilizzando un po quelle di accidenti non mi ricordo più come si chiamano formatato il computer non le ho neanche più in realtà aspetta che guardo se le ho qua a mano che così ti do una dritta per non sono sfx in realtà non sono audio transitions quindi non posso esserti utile da questo punto di vista chi eri chi eri chi eri adolfo sì sigma dipende però dove devi utilizzare uso da vinci per video delle vacanze nulla di professionale ciao a tutti eccolo ciao alla tribù ciao come state a firenze è un casino imbustati come prosciutto sottovuoto e vala vala dappertutto ragazzi è un po così veramente però mi fa piacere che siate in tanti anche stasera perché vuol dire insomma c'è la community si si ampia si ampia quando quando ci sono belle bei progetti di collaborazione perché è un progetto di collaborazione in realtà allora frank franco raga anche in trentino tutti a casa sto imparando ad usare da vinci le transition mi farebbero anche comodo poi tommaso sto arrivando sto arrivando spiegale molto bene transition unica pecca se proprio vogliamo è che tutto in inglese allora da vinci in inglese le transizioni di cui vi sto parlando sono fatte da una persona italiana per i 95 spettatori che ci sono adesso prima eravate un po di meno quindi è made in italy questo rocket da vinci ovviamente la presentazione in inglese per andare worldwide però anche il sito stesso come potete ben vedere da da qua è in italiano tra l'altro transizioni che se andate a vedere sul sito a prescindere dal fatto che oggi ve le andrò a regalare o comunque andremo a farci degli sconti enormi hanno dei prezzi bassissimi cioè è una delle case che crea transizioni più basse economicamente sul mercato attualmente secondo me anch'io sto imparando tutto da solo e con il mio inglese da prima elementare una montagna da scalare ci sono anch'io tomaso ciao moreno ciao carissimo si possono usare le transizioni anche su release 14 non si possono usare sulla 14 perché o meglio probabilmente la parte diciamo delle transizioni normali forse sì qui dovremmo sentire meglio il nostro amico di rocket da vinci però la cosa che so è che ma perché rimane alla 14 giuseppe vabbè poi me lo dirai magari spiegandomi perché sei rimasto alla 14 diciamo che non è proprio semplicissimo buonasera ci sono ciao tommaso non ci lamentiamo le cose semplici sono da ragazzi noi siamo top tutti top in questo canale 102 boom toccati 103 in questo momento ciao a tutti benvenuti ripeto siamo qui questa sera perché facciamo un sorteggione e vincerete questo no questo di qua questo pacchetto completo di transizioni rocket da vinci e un fortunato si porterà a casa tutto il pacchetto e poi molti di voi potranno portarsi altri grandi sconti a casa per questa sera ringrazio tantissimo il buon rocket da vinci che mi ha dato la possibilità di promuovere sulla mia piattaforma sul mio canale youtube questo questo tipo di prodotto perché mi è piaciuto da matti made in italy al cento per cento e continua a leggere un po i messaggi e poi iniziamo a dare un'occhiata anche alle transizioni la sensazione che noi tutti italiani siamo snobbati no anche oggi record di visualizzazioni è certo stefano assolutamente sì record di visualizzazioni ho perso tutto ho fatto un refresh la pagina quindi vi ho perso dove eri finito stefano buonasera tommy io credo che se non si usa professionalmente con una sforza si riesce a fare qualcosa ma perché non scarichi la 16 è gratis buonasera a tutti vai tommy sono qui pronto buonasera a voi problema della 16.2 a me specialmente sui tracker che nervi mi crasha spesso la 16.2 andre devo dire che crasha più volentieri della precedente versione effettivamente anche lo studio anche la versione studio mi crasha mi crasha spesso soprattutto quando lavoro in fusion ciao 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 a tutti aeromax mirko simone luca swindlers fabri mirko di nuovo gioia una donna wow luca anche a me va in crash alla 16 franco ciao ciao a tutti gran saluti questa sera fabrizio fabio leandro osvaldo maurizio stefano la mamma è la mamma cacchio non l'ho ancora vista chissà se verrà online anche questa sera con tutta sto botto di gente 99 iniziano già non persi le scatole alcuni dopo dieci minuti di diretta no bisogna fargli dei saluti ragazzi ve lo dovete sudare questo scontone su rocket da vinci dai state su in compagnia con me siete ritornati già in 103 per fare la rima con state in compagnia con me ciao tommaso ma che ragalano qualche cosa qui andrea torri buonasera mister andrea regalano qualcosa regaliamo le transizioni di da vinci resolve 16.2 di rocket da vinci che è un ragazzotto italiano che mi è stato proprio simpatico fin dall'inizio non so se è online perché aveva un impegno purtroppo speriamo che sia online e vediamo e vediamo jox ciao tommy buono prezzo buono si mirco prezzo ottimo cioè 30 50 euro per il pacchetto completo delle 100 transizioni è veramente pochissimo poi questa sera siamo in super promozione e con questo giochino io mi mi giochi i miei 105 spettatori di questa serie i miei 31 like su con i like però cioè 105 spettatori 107 spettatori 31 like dai su su con i like ragazzi allora io mi faccio il culo qua la sera sono qua che studio faccio brigo datemi una mano anche voi cresciamo con questo canale che tra l'altro ieri è arrivato a 12 mila iscritti quindi many many thanks veramente tante grazie per un canale italiano piccolino come il mio che parla principalmente di settori di nicchia quindi droni e videoproduzioni comunque e da vinci resolve 12 mila persone che mi seguono a me fa veramente tanto tanto piacere quindi grazie a tutti quanti cazzo siamo arrivati a 74 mi piace così 76 madonna grazie ciao tommy prezzo buono tutto bene tutto bene ivan buonasera francesco guardando il video le chaos come categoria sono davvero belle ivan sono belle tutte adesso ve le mostro piano piano vi faccio vedere anche come si montano che è una puttanata montarle è di una facilità estrema belline si possono usare transizioni anche sulla 14 l'avevo già letto prima ma credo che di sicuro quelle per i power bin no ma vi ho già svelato praticamente un piccolo segreto così salve salve a monkey io dal lavoro ma ci sono ciao max andrea ciao da vittorio veneto ciao andrea ciao tutto il veneto ciao tutti i ragazzi che mi ascoltano anche da lì 112 porca vacca siamo di più dell'altra volta ragazzi che botta di numero ciao tommaso per quanto non so per quanto ma questo argomento mi interessa molto beh è max fin quando non arriveremo a fare l'estrazione delle nostre delle nostre release gratuite del nostro rocket da vinci gratuito ciao tommy ci sono problemi di connessione è come al solito ragazzi abbiate pazienza ogni tanto la connessione va e viene abbiate pietà sono ancora in 3g 4g a fare le dirette pensa come sono messo perché non mi vengono a mettere a posto l'antenna puttana eva covid maledetto vabbè ci sono problemi più seri vorrei sostituire il vecchio gopro studio con da vinci fallo subito luca fallo subito mirko saluti da bari buonasera tommaso tommy appena arrivato ciao gianni scusatemi se salto qualche messaggio ragazzi ma vado veloce perché vorrei mostrarvi bene le transizioni prima di partire con diciamo la specifica e farvi vedere come funzionano grande tommy ciao ciao ma tommy da vinci si è aggiornato ancora anche a te 16.2 sono rimasto io prezzi ottimi ciao anch'io sono novizio mi farebbero proprio comodo le transizioni sono ottimali funzionano anche con il 15 sono domande che a cui non so rispondere mannaggia la miseria purtroppo non ho con me mister rocket da vinci che ci possa rispondere però vediamo se magari tra un po arriva o se ce la farà a quante persone lo regali allora ci sono un pacchetto gratuito online e poi ci sono sconti per tutti quelli che mi seguiranno fino alla fine della diretta sconti belli alti molto molto alti quindi io vi consiglierei di rimanere collegati poi date dateci un'occhiata ciao tommaso dai davvero montare di video nelle mie vacanze in puglia drone removal no non credo non c'è non nella transizione qualcuno conosce questo messaggio davinci all'avvio fail to initialize red decoder with configure number decoder no non l'ho mai sentito ammetto sono stato da un mesetto davinci prima usavo final cut devo dire che davinci è davvero ottimo nessun crash ottimo luca carissimo un saluto a luca matrix che ringrazio ancora per il video se non l'avete visto mannaggia voi siete in 112 adesso faccio una marchetta mia sul mio canale tiro via la condivisione schermo guardatemi in faccia faccio una marchettona sto facendo un film con i vostri video luca matrix è quello che ha fatto il voice over di questo video e oggi sarete costretti a vederlo quel video ve lo dico io che sarete costretti a vedere quel video mi raccomando potete mandarmi un pezzo della vostra quarantena direttamente via we transfer come volete voi col cellulare girate con la gopro girate con la sony con quella cavolo di telecamera che volete voi con il cellulare come volete mi fate un pezzo di video della vostra emozione di questa quarantena voglio che trasmettiate la vostra quarantena tramite un video magari che vi emoziona una persona che vedete per strada che vi emoziona vostra sorella che sta giocando a carte con con vostra mamma che siete da soli e siete tristi qualsiasi cosa fatevi un video e mandatemelo non c'è limite di tempo potete fare monologhi potete fare dialoghi non fatemeli verticali i video ragazzi vi prego fatemeli orizzontali per il resto non ci sono limiti siete in 111 mannaggia voi ho già 30 giga e più di 20 persone che mi hanno mandato il video quindi date un'occhiata al mio canale youtube dove c'è covid 19 quarantena italia in quarantena e fate questa cosa per me vi ringrazio gentilissimi e poi adesso andiamo avanti e proseguiamo con la lettura dei vari messaggi la voce che sentite sotto è di luca matrix che ci sta seguendo anche lui questa sera grazie infinite per il supporto ciao tommaso dopo un bel po di tempo eccomi qui finalmente ho avuto un giorno di riposo sono stanco morto ciao vince armadrone carissimo ciao armando grande tommy ero il 12 millesimo andrea del sandis grazie 12 millesimo iscritto mister colo ciao leandro 113 tommy non ho più il fiato porco giuda isterico 89 che ha vinto l'altra volta guarda che non devi mica riaggiudicartelo tu e tanto me lo giudico io come il corso completo di da vinci grande isterico roberto un saluto un gatto un pacco con un gatto che esce da un pacco dionisio ciao tommaso ciao dall'abruzzo vabbè basta con i saluti vado un po avanti e mi sposto di qua vediamo un po diamo un'occhiata un po a queste transizioni spostiamoci su un progetto di da vinci tolgo anche il mio faccione e vi faccio vedere la semplicità con cui con cui si riesce ad utilizzare questo prodotto innanzitutto è un prodotto che viene venduto in questa maniera qua quindi quando voi andate ad acquistarlo arrivo è che ce l'ho nell'altro nell'altro nell'altra pagina solo che non vi condivido i fattacci miei almeno non proprio subito eventi no download e acquisti rocket eccoli qua praticamente quando vi arrivano vi arriva questo pacchetto qui che è un un pacchetto punto d r a chi ha studiato con me i corsi di da vinci resolve sa che di r a è un da vinci resolve archive quindi vuol dire che noi dovremmo andare a fare un restore dell'archivia di da vinci resolve semplicemente facendo questa cosa qua andiamo all'interno di da vinci resolve e e andiamo ad aprire la nostra project manager qua in base di collega riconnessione ok ed eccole qui che compaiono una volta che le andiamo a una volta che sono comparse all'interno del nostro file del nostro scusatemi nel nostro project manager basterà semplicemente andare a cliccarci sopra andiamo a fare un doppio clic e andiamo ad aprirle praticamente aperte le abbiamo tutte quante qua all'interno di complete pack volume 1 che comprende vintage parallax and slice optimized for power bin le chiudo un attimo queste motion lights extra effect caos e utility ok la cosa più semplice da fare che vi consiglio io è se volete utilizzarle direttamente anche insieme alla all'audio potete utilizzarle direttamente da questa schermata qua quindi cosa andiamo a fare andiamo a prendere il nostro complete pack e andiamo a copiarlo control c o comando c e apriamo il nostro file scusatemi il nostro progetto che ci interessa in questo caso il progetto che ci interessa è video interviste avevo fatto una copia così buttata a caso per per andare un po a torturarla con delle transizioni l'avevo già incollato prima in realtà ma lo cancello che così lo rincollo nuovamente arrivo qui su master ok ho tutto quanto chiuso vado qui faccio comando o control v e automaticamente complete pack volume 1 mi compare qui sotto io da questo momento posso utilizzare queste transizioni già all'interno qui non so se vi ricordate per chi ha acquistato le transizioni di da vinci messaia aveva anche la necessità di andare a fare tutti i relink file c'erano molti più clic da fare io sono un amante del meno clic possibile meno utilizziamo il mouse meno chilometri facciamo con il mouse meglio quindi la mia soluzione la soluzione che mi è piaciuta veramente tanto di rocket da vinci è stata questa che è già tutto pronto quindi se noi entriamo ad esempio in vintage avremo già di per sé le varie transizioni posizionate state in occhio perché io adesso le ho posizionate in questa maniera ma una cosa molto comoda è potrebbero essere magari che ne so messe in ordine per nome per facciamo real name ok di modo che non avremo l'anteprima legata al video vero e proprio la cosa che vi consiglio io è di andare a ordinarle per nome di modo che le abbiate una sì e una no e stringere la nostra colonna fino a quando non abbiamo due colonne perché in questa maniera perché così saprò che questa transizione in realtà si abbina con questa transizione questa anteprima si abbina con questa transizione per prendere la transizione non devo prendere l'anteprima l'anteprima è solo un esempio un aiuto che vi dà devo andare a prendere la transizione vera e propria la prendo e la sposto all'interno del mio progetto all'interno del mio progetto una volta che l'ho inserita dovrò andare a fare pulsante destro e decompose in place una volta cliccato decompose in place lui mi crea la transizione vera e propria ed eccola qua la faccio ve la faccio passare clip per clip eccola qua ok se avessimo problemi in renderizzazione cosa che fortunatamente il mio computer per ora non ha ma se avessimo problemi in renderizzazione potremmo andare a prendere gli effetti extra e prendere il render qui andare ad ampliarlo della dimensione che occorre spero di far giusto perché l'ho fatto solo una volta in realtà questo questo passaggio e andare a attivare il render cache user in questo caso vado anche ad attivare il render cache fusion output e automaticamente andrà a eccolo qua a renderizzare vedete la barra rossa che è diventata blu quasi tutta gli manca solo questo pezzettino qua ok è diventata tutta blu ora sarà molto più fluido in questo caso posso togliere anche render che il renderizzazione ed eccolo qua questo è uno dei vari modi è un po macchinoso concordate con me che un po macchinoso io ho trovato però una cosa geniale fatta dal nostro buon rocket da vinci che è quella dei power beans chi non conosce i power beans alzi la mano alzate la mano se non conoscete i power beans e andate sul mio canale perché c'è una bellissima pillola di da vinci risolve che spiega esattamente come funzionano questi power beans perché sono indispensabili sono qui di lato qui di fianco vedete power beans e se non li avete attivi basta semplicemente andare su view qui in alto e attivarli attraverso power beans qui in basso ok perfetto se attiviamo i nostri power beans abbiamo i nostri togliamo rocket che così vi mostro come si fa il mio power bean in questo momento ha le transizioni di messaia e i miei intro e outro che utilizzo solitamente cosa faccio vado semplicemente a recuperare all'interno del complete pack 1 gli optimized for bean for power bean ok quindi prendo rocket da vinci transitions e me lo sposto in power bean dentro a master eccoli qua magari vado a cambiare il nome perché un po troppo lungo per i miei gusti e tengo solo rocket da vinci tanto so che sono le transizioni e ora avrò il mio power bean con semplicemente le mie transizioni già pronte all'utilizzo allora le vintage sono le più vintage appunto vedete che la tipologia è questa qua ma guardate quante ce ne sono solo di vintage cioè vi viene il mal di mare la cosa figa è che cancello questa in questo caso sappiate che non per colpa di rocket da vinci ma per a causa di da vinci resolve 16.2 non è ancora possibile importare all'interno dei power beans il collegamento diretto con l'audio quindi purtroppo l'audio dovremmo andare o per fortuna dipende dai punti di vista dovremmo andare a scegliercelo noi quindi prendiamo la slide numero 4 che è quella che ci piace magari questa qui andiamo a recuperarla e la appoggiamo direttamente qui notate una cosa non devo fare decompose in place non devo fare nulla è già pronto all'utilizzo immediato in questo caso non c'è l'audio ma never fear mai paura perché qui sotto abbiamo sound e possiamo scegliere quello che ci pare ci piace che ne so many hits spin glitches warp jet bush distort super prendiamo super super hate e lo portiamo qui sotto e poi decidiamo quanto lungo andare a farlo ovviamente quindi io lo porto a stringerlo quanto lunga è la mia transizione e avrò il mio audio collegato con la transizione super veloce l'utilizzo dei power bin è comodo ed è fighissimo perché per il semplice motivo che avete la possibilità di andare ad inserire all'interno del power bin la vostra cartella in questo caso quella di rocket da vinci che utilizzerete in tutti i vari progetti mentre se invece andate sulla prima sezione che ho fatto vi ho fatto vedere prima quindi quella all'interno del complete pack all'interno del media pool qui sopra in questo caso dovrete copiare incollare ogni volta tutto quanto io personalmente utilizzo i power bin non me ne voglia nessuno ma preferisco fare così perché mi è molto più facile mi è molto più veloce leggo qualcosina mentre mentre sono mentre mi sono girato di qua e leggo tanto me lo giudico io ciao tommaso ciao dall'abruzzo ciao tom mi tira la bomba ciao da bologna saluti a fabio saluti a luca spero default luca luca defant alle udin fare almeno una decina su 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 beh vedrai luca che ci sono degli sconti su tutta la community che schifo non faranno ve lo posso assicurare stai tutto eccitato per la diretta tommy mi piace un sacco stare in diretta lo sapete è bello valerio ma gratis 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 a zero tommy salvatore si ha avuto la tua stessa idea sta raccogliendo video per il tuo stesso progetto e ho visto fabbri però non vuol dire che sia male vuol dire che l'italia si sta effettivamente muovendo ed è bella a questa cosa speriamo ne vengano fuori tanti di questi progetti fabbri e speriamo che anche tanti di voi lo mandino a me il video non solo a salvatore spero mi raccomando lagga lo so lo so lagga un po il merito è tutto per il tuo bel testo grazie luca sempre che ha fatto il voice over non mi è suonata la campanella porco giuda ale fai una cosa ale dis iscriviti e riscriviti e fissa la campanella dicendo tutte le notifiche sarebbe fantastico io sto avendo un grosso problema con davinci 16.2 studio inserendo una clip 4k sulla timeline vedo una riga verde a destra in verticale non mi è mai successo non ti saprei dare una mano cristian cardillo carissimo ciao cristian buonasera a tutti le riprese per il filmato su copi delle vuoi in log no le voglio come vengono non è un problema poi io dovrò fare il montaggio quindi gestitevele come volete tanto tantissima gente me le sta mandando anche col cellulare quindi non posso pretendere poi dovrò metterle un po posto di colori quindi gesticita la come ti pare come te la senti tu mister colo ecco ti ti avevo perso abbiate pazienza se ogni tanto mi schianto con la connessione tommi qualcuno tommi non riesco a visualizzare due schermi in da vinci non posso parlarne questa sera perché un po un casino ma basta andare qua in alto e dagli le soluzioni su come andare a vedere i vari video no dove mi workspace qui layout preset video scopes single viewer eccoli qua video clean single viewer single viewer mode dual screen eccoli qua però non ci perdo tempo questa sera abbi pazienza perché ci dedichiamo alla diretta che ogni tanto lagga e si inchioda mannaggia alla diretta mannaggia alla connessione e io uso power beans e sono una ficata power beans a colazione a pranzo un saluto a fabio rolling deep buonasera sono il resolve 11 16.1 mi consigliate la 16.2 sandro boh non lo so mi si schianta parecchie volte a me la 16.2 in questo periodo però ciao grande ciao vale sono quella 16.2 non ho problemi ma gli altri hanno dei crash anch'io dei crash purtroppo devi staccare i ragazzi buonasera ciao sergio buonasera un abbraccio riguarda la diretta perché ti tengo un una promo anche per te ciao tommy buonasera a tutti grande tommaso grande 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 e niente diamo un'occhiata ancora qualche qualcosa tipo ai parallax and slice ok che sono questi fantastici effetti un po più old style io non li apprezzo tantissimo ma per alcuni lavori possono essere molto utili ma mi voglio spostare guardate quanti ce ne sono cioè è una cosa folle ha creato una quantità cioè se pensate 100 100 transizioni le fa pagare 50 euro cioè veramente niente 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 andiamo sulle motion che sono molto belle perché sono i classici zoom in e zoom out quindi prendiamo ad esempio questo devo magari mettere ok ed è lo zoom in vedete questo tipo di zoom qua che è fantastico volendo possiamo anche metterci un bush dopo quindi ritorniamo negli extra effect non scusatemi nei nei sound e prendiamo un bush e lo buttiamo qua sotto adesso lo esagero vabbè però ok oppure prendiamo cancelliamo un po questi effetti e andiamo a recuperare sempre all'interno di motion guardate cosa non c'è qua dentro gli zoom in zoom out zoom in slide left slide right quindi anche questi qui gestiti in questa maniera qua e sono fatti bene caspita sono veramente morbidi fluidi e avete visto che leggeri che sono cioè non pesano tanto sulla sulla ram o su o sulla gpu stanno sono fatti veramente bene complimenti di nuovo a rocket da vinci che li fa che è italiano made in italy sta roba ragazzi tutto made in italy pandora vediamo pandora pandora non ancora guardato o non sono riuscito a vederli tutti sono talmente tanti ok anche questo è carino poi vediamo cosa c'è ancora pandora pandora corner cioè guardate quanti ce n'è l'effetto blur per esempio un effetto blur tipo questo effetti blur 3d effetti di movimentazione bello questo caspita questi qui non li avevo ancora guardati mi sono spostato sui caos e nel frattempo leggo che c'è anche gian c'è anche zero matt saluti anche a valeriano saluti a massimo tommy oggi ha seguito la diretta in cui mucino ha detto che vuole fare un film modello il tuo ragazzi e mucino e salvatore codolo cioè chi volete che cosa volete di più ce n'è chi più ne ha più ne metta l'importante è che questa cosa venga fuori figa a prescindere dal fatto che la faccia mucino che la faccia salvatores che la faccia sentito anche andemol che la vuole fare probabilmente adesso inizieranno a farle anche in serie tv che ne so codolo che la vuole fare tutti quanti l'importante è che se ne parli e che vengano fuori dei bei progetti dei bei film dei bei video quindi avrei veramente tanto piacere che venisse fuori anche da voi 108 spettatori attuali siete un botto e non calate non calate perché lo so perché c'è questa cosa qua che adesso vi do sì vi do vi do lo sconto vi arrivo lo sconto se riesco ti mando un video quando siamo vestiti per combattere il covid mi piacerebbe tantissimo vince mi piacerebbe tantissimo giovanni stiamo raccogliendo le richieste dei vari utenti ma non ho sentito che ci sia una release per la 17 per ora ah ho saltato gianni scusami gianni ho letto che è uscita la versione 17 ne sai qualcosa no non ne so nulla ho intervistato ho intervisto una notizia su risolvi 17 pro non è che vogliono metterlo solo a pagamento non ne ho idea mi crasha durante il render io vedo codolo io voto codolo grande andrea anche perché sei uno dei miei attori più 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 presenti nel video probabilmente con tutta la roba che mi hai mandato che mi stai mandando che mi manderai oldani domanda ma queste transizioni sono personalizzabili nell'inspector oppure in fusion allora entriamo e diamoci un'occhiata nel momento in cui io entro in inspector ho l'effetto ok ho la possibilità di gestire il composite dell'effetto e ho la possibilità di fare ben poco posso però entrare in fusion non ho ancora guardato ho guardato solo una in fusion come gestita apriamo insieme fusion se non mi crasha da vinci ok e qui abbiamo il corner compositor con le perspective quindi puoi andare a gestire le tue scelte personali direttamente sui sull'inspector all'interno di fusion perché è aperto comunque ti permette non è tutto chiuso e vincolato assolutamente sì hai la possibilità di gestire tutto quanto anche la gestione per esempio degli edge se preferisci vedi che è comparsa in questo caso il piccolo rettangolino verde la gestione dei canvas dei warp dei duplicate piuttosto che dei mirror e via dicendo quindi c'è la possibilità di andare a ritoccare le transizioni in questo caso in fusion non in edit avrai un video mentre vado al conad 19 grande ale ciao tommy ciao ale ciao andrea ho fuso we transfer livio ciao mauri ciao tommy cosa pensi del fatto che molti filmmaker disprezzano le transizioni a me piacciono molto allora mauri le transizioni vanno dosate e utilizzate il giusto io non sono un fan folle delle transizioni ma in certi casi ho bisogno per rendere movimentato il film per dare movimento al film di transizioni che possono essere fatte in camera o essere fatte in questo caso in post produzione in post produzione sono molto comode un pacchetto che costa 50 euro secondo me è veramente super super economico e ne vale la pena ciao grande ti seguo sei bravissimo continua così ti ho mandato il video di neve a bari ok va bene dai parliamo un po di questo sito andiamo di qua rocket da vinci come si fa a vincere il pacchetto gratuito di rocket da vinci siamo in 106 abbiamo 94 mi piace quindi ci siamo abbastanza appianati tra mi piace e e altro e abbiamo la possibilità di scorrere giù in basso dove direttamente c'è la possibilità di aggiungere al carrello e fare gli acquisti direttamente sul sito di rocket da vinci io questa sera ciò che vi vado a regalare è fornito gratuitamente completamente da questa azienda italiana che ha deciso di darvi appunto scontistiche notevoli e un pacchetto in omaggio per tutte le persone che per per la per la prima persona che si aggiudicherà questo premio come facciamo e qua e ridiamo un po perché sapete che mi diverto tanto in questa cosa guarda non scrive più nessuno siete tutti attenti allora come si fa a vincere vabbè il consiglio che vi do io è quello magari già di prepararvi anche rocket da vinci lì sotto no che così magari alessio furlan cancaro cancaro non ti me vuol più ben entrate in rocket da vinci andate nel carrello insomma fate un po come vi pare e sappiate che all'interno del carrello poi ci sarà una sezione che si chiama possiedi un codice coupon dove dovete inserire il codice coupon per poter andare a vincere lo sconto lo sconto il codice sconto dov'è che si trova si trova nel mio blog quindi aprite blog di www.tomasocodolo.com e all'interno dell'ultimo articolo che è pubblicato sul sul sito c'è ovviamente che cosa potevo fare l'articolo legato agli al covid al covid 19 ma non dovete cercare una parolina come l'altra volta e diventare matti no no stavolta dovete guardarvi il mio video vi dovete guardare il mio video perché il codice sconto è state attenti il colore del vestito della ragazza con i dreadlocks dopo la frase i miei folli balli da solo i pianti poi compare la ragazza con i dreadlocks che ha un vestito di che colore maschile è tutto scritto in minuscolo quello è il codice per vincere rocket da vinci e il pacchettino completo di queste transizioni rullo di tamburi vi metto un po di ansia il colore del vestito della ragazza con i dreadlocks oggi dovresti regalarli a tutti ragazzi è partita così se va bene magari settimana prossima ne facciamo un'altra chi lo sa è divertente però no vi potrete passare un po di tempo così vi guardate il mio video facciamo delle visualizzazioni sul mio video dai folli balli da solo i pianti e poi abbiamo la ragazza con i dreadlocks rimaniamo un po in silenzio così non vi disturbo troppo ci vuole un po lo so perché dovete guardarvelo il video stavolta è qui è qui all'interno di covid 19 vedete la tua storia è qui il progetto l'idea no rosso non è rosso ragazzi la ragazza con i dreadlocks con i dread con i rasta non è rosso eccolo la è arrivato il nostro mattia vediamo se non posso sapere se lo hai vinto perché non vedo gli acquisti io oggi quindi non ho la possibilità di vedere gli acquisti e quindi qualcuno se l'è preso direi mattia allevi complimenti mattia complimenti complimenti molto piacere quindi bravo al nostro primo uomo che è arrivato e si è portato a casa il eccola qui eccolo qua i selfie ed ecco la nostra ragazza con la magliettina con il vestitino azzurro quindi azzurro era il codice corretto chi se l'ha giudicato? c'è qualcuno che se lo sta giudicando? non vedo non vedo non vedo non vedo ma visto che siamo nel momento celeste ma dai su è azzurro buona azzurro su 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 nel frattempo proseguiamo con i regali e il regalo successivo questo potete prendervela con più calma perché questo è un regalo che vi faccio di cuore che ho chiesto io direttamente appunto a Rocket Da Vinci del quale visto che siete in 99 iscritti vi chiedo la cortesia di andare anche oltre ad acquistare il suo pacchetto anche se magari non avete vinto il pacchetto maggio adesso vi darò uno sconto del 50% su tutti gli acquisti che andrete a fare durante questo momento qua il codice sconto è vediamo 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 è l'ultima parola del voice over del video quindi l'ultima parola di Luca Bocci di Luca Matrix nel video qual è l'ultima parola che dice nel video verso la fine dai è abbastanza semplice e potete andare a prendere il lo sconto del 50% sconto del 50% inserendo questa parola all'interno del codice sconto del coupon inserendolo lì e si lo faccio a posto dai mi diverto siamo qua siamo in compagnia siamo un centinaio di amici di persone e divertiamoci tutti assieme il codice sconto è appunto la ultima parola del video per chi avesse anche letto bene bene il mio articolo film ci siamo bravi ragazzi il film è la parola per andare ad aggiudicarsi lo sconto del 50% quindi rocket da vinci ve lo portate a casa a 25 eurini io non ho la più palida idea di quanta gente se lo stia scaricando mi auguro sia per voi che avete la possibilità di scaricarlo a un prezzo che è la metà del prezzo lancio che ha utilizzato rocket da vinci ma mi auguro anche che iniziate anche un po' a seguirlo nei vari social network quindi che vi spostiate oltre che su questo su questa pagina dopo aver acquistato il vostro pacchettino acquistato perché ne vale la pena io penso di sì Stefano sinceramente guarda se devo essere sincero ma non perché mi ha dato la possibilità di testarlo lo sapete ogni tanto mi capita che qualcuno mi manda della roba li testo volentieri ho fatto volentieri questa diretta questo gioco con voi con tutti quanti voi perché mi piace il mood di questa persona mi piace come sta lavorando e spero che possa crescere sia lui e magari nasce una collaborazione chi lo sa un progetto del genere potrebbe essere potrebbe essere interessante e potrebbe effettivamente funzionare e oltre ovviamente a fare questo nel momento in cui vi siete iscritti nel momento in cui siete entrati nel sito e avete magari anche comprato il pacchetto date un'occhiata al suo canale facebook che è nuovo nuovo è stato appena fatto quindi ha veramente pochissime persone l'altro giorno aveva due o tre iscritti era proprio era proprio all'inizio e andate a cliccare un bel mi piace su questo nuovo ragazzotto che sta iniziando a fare della roba veramente bella io ve lo consiglio caldamente poi che altro dirvi ragazzi spero spero che vi sia piaciuto il fatto che anche stasera abbiamo avuto la possibilità di regalare qualcosa nel canale io cerco sempre di di regalare cioè di darvi qualcosa in più se riesco a regalare benvenga se riesco a farvi fare degli sconti benvenga e poi se c'è un feedback vediamo che è piaciuto tanto e che ne so e anche rocket da vinci proporrà anche prodotti nuovi insomma quando quando usciranno cose nuove e chiunque abbia intenzione di darmi della roba per poi promuoverla gratuitamente o con sconti con forti sconti benvengano e vi vi auguro tanto di poter di poter di poterli vincere leggo un po' di leggo un po' di messaggi perché ho visto che sono arrivati una spilta di messaggi nel frattempo torno in solo su cam qui e e e allora lo fai apposta di Obonino film 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 acquistato perché ne vale la pena trovato inserito colore ma non è giusto è ormai Arcangelo siamo un po' vecchiato siamo un po' in ritardo c'è già stato il primo vincitore mi dà mail non corretta al lato della registrazione era celeste mi sembri vanna marchi ma no ecco è arrivata mia mamma cosa è che mi dice mia mamma ciao Tommy che bravo quanta gente che ti segue 100 persone no mi sembri vanna marchi mi dice grazie mamma comprato bene grande Andre Dennis preso alla metà grazie mille sono contento Dennis e ricordatevi il codice sconto quindi è film con il codice sconto film tutti quelli che rimangono online ovviamente state calando drasticamente perché mancano 10 minuti alla fine della diretta no perché vi ho già dato i codici sconto infami però siete simpatici tutti quanti perché quando faccio queste cose mi piace penso che un giorno o l'altro farò una una diretta regalando un codice sconto tipo di Amazon che ne so un 100 euro di codice sconto di Amazon perché tipo Spironet Mr. Spiro Ivan sa di cosa sto parlando un bel codice sconto da 100 euro di Amazon eh vi piacerebbe averlo vediamo quanta gente tiriamo su allora 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 è andato in blocco è andato no ora è andato boh ok perfetto comprato comprato a me da a me da errore no comprato perfetto I am purro ciao purro Stefano ho messo mi piace alla pagina spettatori in calo è inevitabile è inevitabile Stefano non posso pretendere che rimangano tutti e 100 a guardarmi erano molti legati al fatto che c'era qualcosa di gratis o qualcosa con degli sconti interessanti la prossima volta vendita barbecue da balcone con questo periodo comprato al 50% spettatori in calo grazie acquistato alla metà la prossima vendita barbecue lo sconto dura solo fino alla fine della diretta Fede no lo sconto dura fino a domani mattina almeno così ho chiesto a Rocket Da Vinci perché appunto volevo darvi un po' il tempo non sapevo se si ingolfava il sito non sapevo se avremmo avuto problemi quindi molto probabilmente rimarrete un po' cioè avremo un po' di tempo per andare a caricarlo ho messo codici infiniti perché tanto sapevo che più o meno eravate un centinaio di persone che mi seguivate e non penso cioè non penso che vadano oltre le 100 i 100 download però ho messo quei codici bloccati però da domani mattina di modo che se poi vediamo che ci sono delle altre promozioni e delle altre cose sappiatelo che magari verranno messi online e verranno gestiti gustatevele guardatevele tutte valgono veramente la pena io sono tanto contento di aver fatto questo questa promozione e di aver promosso questo ragazzo perché se lo merita intanto grazie perché siete ancora in 80 e quindi vuol dire che solo 20 persone sono andate via e sta cosa qua mi mi fa molto felice spero che tutti quanti voi abbiate capito di dovermi mandare un video per il covid mi raccomando ragazzi acquistato al 50% beccato al 50% ciao tommy si possono usare in più copie di da vinci si puoi usarli in più copie di da vinci perché una volta che li hai scaricati li puoi utilizzare assolutamente ottimo grazie grazie comunque bella diretta grazie roberto un piacere matteo pensa sono talmente sfigato che mi sono collegato 26 minuti prima e mi sono messo al lavoro su da vinci ecco mi sono ripreso adesso non importa matteo c'è lo sconto del 50% ed è film puoi andare a comprare le transizioni con lo sconto del 50% assolutamente fino a domani mattina c'è lo sconto quindi prendetela con calma nel senso puoi andarci già da subito entrare nel sito seguirti gli step e lo sconto è film ovvero l'ultima parola del video del covid che ho girato proprio per questo vi rimembro di nuovo di andare a seguire quel video lì e di vedere come funziona il regolamento e di inviarmi i vostri video di questo periodo di quarantena voglio fare un film lo fa Salvatore Muccino lo fa Salvatore Gabriele lo fa Gabriele Muccino lo fa Gabriele Salvatore lo faranno Endemol lo faranno in tanti meglio meglio più siamo meglio è condividiamo questa quarantena come la stiamo vivendo come la state vivendo come la sto vivendo perché non ci capita più sta cosa qua ragazzi e ci segnerà vita ho un progetto con un'antropologa che probabilmente seguirà tutto il progetto per vedere anche come si sviluppa tutto quanto dietro tutta questa necessità di stare legati a casa tutte le problematiche che si vengono a creare quindi seguitemi seguitemi e mandatemi i video veramente verrà una cosa fighissima lo so lo so perché è caduta dal cielo non è capitata per caso è caduta dal cielo e mi è venuta addosso e io l'ho presa lo so verrà una cosa fighissima leggiamo un po' preso al 50% grazie ho aperto la chat e stavo facendo le costine con una mano il telefono e l'altra giro la carne ciao grazie Tommaso a Vince Leandro sto smadonando con il carello al check out vai con calma Leandro con un po' di calma ce la fai vedrai magari sia un po' anche intasato per il centinaio di persone che c'erano siamo rimasti in tanti perché sei bellino ma come sei bellino adesso che ti ho anche ben presente di faccia guarda ciao Andre Matteo film esatto Verona Max come faccio a scaricarlo mi sono Rinco vai a scaricare tutto ti arriverà un email suppongo non so come si faccia a scaricare penso che ti arrivi un email con il pacchetto poi ci ricordi come installarli basta riguardare la diretta il primo pezzo iniziale della diretta vi mostro come li ho installati è facilissimo ma comunque ci sono le istruzioni all'interno del pacchetto sono di una semplicità disarmante ma al massimo riguardati la diretta Fabri senza problemi Matte sei un grande grazie Matteo Riccardo ciao Tommy dopo vado a scaricarlo top ricordati che dura fino a domani quindi approfittane Dioniso alla prossima Tommaso ho beccato lo sconto per un errore non mi sono aggiudicato il pacchetto gratis porca paletta mi dispiace Dioniso veramente Ivan preso al 50% speriamo che funzioni con il 15 boh al massimo passa al 16 dai Ivan su alla prossima ciao comprati ho altri pacchetti transizioni ma premiamo il made in Italy si Mauri condivido con te premiamo il made in Italy cazzo è proprio bravo sto ragazzo e poi costa un poco dai 25 euro li avete pagati costa un cazzo sta roba e anche il prezzo completo 50 euro non è niente preso al 50 grazie mille follow you io ho messo la GoPro in auto mentre vado a lavoro strade vuote bella bella andre stefano ti arriva email con il download non avevo dubbi ste domenico petrignano grazie mille tom mi preso al 50 ciao a tutti vado ad accendere il forno preso con lo sconto grazie una domanda perché mi esporta in h26c non mi esporta in h265 dovresti andare a impostarlo credo non so se è un limite del del da vinci base no credo che è anche nel da vinci normale non solo nello studio si possa ti arriva un email con il pacchetto in zip mi è arrivata la mail con tasto download ti arriva l'email ciao grazie quando saremo liberi di tornare nei nostri paesi la prima cosa che farò verrò a trovarti a zocca vince abbiamo stiamo già organizzando la grigliatona cazzo ci siamo quando sarà caldo facciamo la grigliatona Enrico arriva una mail per scaricare il pacchetto al 50 Tommy grazie buona serata un saluto a tutti forza Italia siamo i migliori un saluto da Abu Dhabi Oldani si arriva una mail un file zip da scaricare su drive ragazzi mamma mia che fatica che fatica siete in 70 ancora vi voglio bene a tutti cazzo siete grandi vi saluto a tutti grazie a tutti grazie al nostro buon amico che ci ha permesso di fare anche questa diretta a Rocket Da Vinci che ci ha permesso di gestire questa diretta con voi è stato bellissimo come al solito sono strafelice che qualcuno abbia vinto e tantissimi abbiano scaricato il pacchetto con il 50% di sconto a me non resta che salutarvi come al solito per qualsiasi cosa info chiocciola tommasocodolo punto com come al solito se volete informazioni sui droni info chiocciola formazione drone punto com non mi resta che salutarvi e un saluto a tutti quanti ricordatevi che per scaricarlo fino a domani il codice sconto è film ciao a tutti grazie di essere con me e grazie di avermi seguito anche stasera ciao